Ed ecco l'ultimo articolo di Newspaper History. L'emergenza. Quali erano i problemi dell'Italia Unita oltre a quello dei territori mancanti? La maggior parte della gente viveva in una condizione di assoluta miseria. Il bilancio dello Stato era gravemente in crisi. Il debito pubblico di 2.400 milioni di lire, moltissimo per l'epoca. Il governo di destra, con il ministro delle Finanze Quintino Sella, iniziò una politica del sacrificio, aumentando le tasse, in particolare quella sul macinato, che colpiva soprattutto i più poveri. Nonostante le numerose rivolte e proteste, il governo non cedette e nel 1875, con molte privazioni per il popolo, riuscì a pareggiare il bilancio. L'Italia, poi, era sempre stata divisa in stati molto diversi tra loro, persino nel modo di parlare. L'italiano era quasi una lingua straniera. Anche Cavour parlava e scriveva in francese, e Vittorio Emanuele in dialetto. Inoltre, più di tre quarti della popolazione era analfabeta, e il diritto di voto era per una ristrettissima minoranza che sapeva leggere e scrivere e che riusciva a pagare un tributo, quindi una bassissima percentuale. La questione romana, invece, è il problema che riguarda l'annessione di Roma e lo Stato Pontificio all'Italia. Dopo aver spostato la capitale da Torino a Firenze, il 20 settembre 1870, attraverso la breccia di Portapia, i bersaglieri italiani entrarono in Roma e la occuparono dopo brevissimi combattimenti. Pochi mesi dopo, nel 1871, fu proclamata capitale d'Italia. In questa carta potete vedere i vari passaggi che porteranno all'Italia così come oggi. Pochi mesi dopo, nel 1871, fu venne anche votata una legge che regolava i rapporti tra Stato e Chiesa, detta delle Quarentige. I palazzi del Vaticano e del Laterano formavano uno Stato indipendente di cui il Papa era sovrano esistente ancora oggi, città del Vaticano. Lo Stato italiano avrebbe anche versato una cifra annuale per il suo mantenimento. Il Papa, però, rifiutò la legge delle Quarentige, si dichiarò prigioniere in Vaticano, scomunicò il re e vietò ai cattolici di andare a votare. La questione meridionale, cioè il problema rappresentato dalla retratezza del meridione d'Italia, aveva molte cause. La scarsa fertilità dei territori del sud, l'assenza di borghesia che avviasse l'industria e l'agricoltura basata sul latifondismo. Con l'unità d'Italia, a causa del servizio militare obbligatorio e dell'aumento delle tasse, la situazione era peggiorata e il sud fu percorso da un'ondata di delinquenza e ribellione, il cosiddetto brigantaggio. Per oggi è tutto. Ci rivediamo e ci risentiamo alla prossima video-lezione. Buon lavoro, ragazzi! Buon lavoro, ragazzi!